Tornando diciamo alla questione protocollo, si è appunto fatto con l'inizio degli interni proprio in qualche modo per evitare eventuali appunto proselitismi di carattere radicale all'interno delle moschee, dunque voi siete, cosa ne pensate? Anche la questione legata al sermone, no? In arabo che non viene compreso da, ovviamente da... Sì, il sermone è appurato, ormai tutti gli organi di intelligence sono concordi sul fatto che nessuna radicalizzazione avviene all'interno dei luoghi di culto. I luoghi di culto in Italia e in Europa sono i posti più controllati del mondo, ci sono microfoni, ci sono persone che si ascoltano e riferiscono e tutto il resto. Quindi non c'è assolutamente all'interno del luogo di culto e delle funzioni religiose, cioè la predica del venerdì eccetera, nessun incitamento all'odio, allo scontro militare, alla violenza. Quello è appurato e lo dicono gli organi di intelligence, non lo dico io soltanto. Il fatto di fare un sermone solo in italiano è una cosa... Io mi batto da 30 anni, da quando io ho cominciato a frequentare le moschee nel 1984, prima il mio islam era molto personale, non conoscevo nessuno e tutto il resto, da allora mi batto perché il sermone sia anche in italiano. Io faccio da più di 15 anni il sermone in italiano nella moschea dove è la mia città e anche altrove, questo è risaputo. Il sermone deve essere compreso dalla maggior parte della gente, la lingua compresa da tutti quanti è sicuramente l'italiano. Ora, obbligare a fare solo in italiano, credo che sia semplicemente per evitare spese di traduzione da parte di chi registra e poi dopo deve sbobinare il sermone, ecco tutto lì, perché in realtà non c'è questo, non c'è assolutamente questo. E comunque sia... va benissimo che ci sia anche il sermone in italiano o anche solo in italiano. Quello che non accettiamo è che sia fatto per legge, perché per esempio si potrebbe dire allora perché, non so, la comunità ebraica prega nella sua lingua sacra, noi preghiamo nella nostra lingua sacra. Il sermone fa parte comunque della preghiera, per cui si può fare, sicuramente io credo che si possa fare in italiano quando la maggior parte della gente lo comprende. Per esempio, nella mesquia che frequento io, mi rendo conto che il 30% di quelli che la frequentano, dei dioranti, sono rifugiati e che vengono dall'Africa e quindi l'arabo non lo sanno. Un altro 30% sono macedoni, albanesi, bangla e tutto il resto, per cui poi alla fine soltanto forse un terzo di tutti questi che possono seguire un sermone in alabo, mentre tutti quanti seguono i sermone in italiano. Quindi è giusto anche quello, non c'è nessun problema su quello. Non accettiamo che venga fatto per legge. Ecco, tornando alla piattaforma, non temete che ci possano essere delle infiltrazioni o comunque, visto che tutti si possono in qualche modo, visto che si accetta queste dieci regole, ci si riconosce, però ecco, magari altre associazioni più, come dire, organizzate o anche persone esterne, infiltrazioni che possono in qualche modo inficiare l'obiettivo vostro. La democrazia ha i suoi rischi, evidentemente… Vediamo il caso Grillo, tante defezioni hanno avuto sia la rossa parlamentare… La democrazia ha i suoi rischi, non c'è dubbio. È una porta aperta all'interno della quale possono entrare benintenzionati e malintenzionati. Io confido, sono un ottimista, io confido nella saggezza dei musulmani che si scriveranno e poi sceglieranno i candidati da votare affinché scelgono delle persone che veramente siano capaci di rappresentarle, abbiano un atteggiamento positivo e costruttivo nei confronti della comunità e della comunità generale, della comunità nazionale. Ecco, tornando ancora all'ultimo argomento di attualità, Trump sta attuando una politica nei confronti di musulmani molto discriminatoria, con lei cosa ne pensa? Ma è un fenomeno che si sta muovendo in tutto il mondo, perché in Italia abbiamo forze politiche estreme come la Lega che appunto ci contrastano in quanto musulmani, in quanto tali. Abbiamo la Le Pen in Francia, abbiamo movimenti razzisti un po' dappertutto in tutta Europa, ci stava anche che venne arrivassero negli Stati Uniti, evidentemente. Ora, che poi dopo lui possa veramente continuare con questa politica, ne dubito molto. Fa specie soprattutto il fatto che in una logica di protezione del paese, perché lui ha detto noi non vogliamo che vengano i terroristi, noi vogliamo mettere a sicuro il nostro paese e tutto il resto, i paesi da cui in realtà sono venuti più radicalizzati e terroristi verso gli Stati Uniti, cioè l'Arabia Saudita, il Pakistan, non sono compresi in quella lista, per ragioni evidentemente politiche, economiche e tutto quanto. Mi sembra che ci sia un'assoluta schizofrenia da parte di questo comportamento, vediamo come va a finire evidentemente. Poi lui non ce l'ha solo con i musulmani, ce l'ha con i messicani, ce l'ha con tutti, non gli piacciono i neri, non gli piacciono sinceramente, quando si parla di valori americani, i valori americani si sono formati in un coacervo di immigrazione, c'è stata un'immigrazione che è venuta da tutto il mondo e poi si sono formati dei valori che sono appunto valori teoricamente di democrazia nel paese e di oppressione altrove. Ecco, la costituente quando si formerà, cioè si è già formata in qualche modo il comitato promotore, ma c'è un comitato promotore che sta lavorando aperto tre cantieri, uno dei tre sono, noi faremo un blog dove pubblicheremo informazioni su quello che stiamo facendo, su chi siamo e cosa vogliamo e su cosa stiamo facendo, stiamo lavorando anche al progetto di una radio web che sia una radio costituente, stiamo lavorando anche per trovare il finanziamento necessario per poter portare avanti queste attività, non abbiamo nessuno dietro, non abbiamo stati, non abbiamo potentati di nessun genere, penso che stiamo studiando un sistema di crowdfunding, di microfinanziamento, 5 euro al mese, una cosa del genere e dopo di ciò noi stiamo costruendo la piattaforma web che è abbastanza complessa, nel senso che poi deve essere una cosa fatta bene e che le autorità potranno anche controllare, chi si iscrive alla piattaforma dovrà metterci la sua faccia, dovrà metterci un suo documento, un suo codice fiscale, per cui non avremo cammellaggi truppe di falsi… Un fake diciamo, non ce l'avremo, non ce l'avremo, poi naturalmente potranno iscriversi come dicevo benintenzionati e malintenzionati, io sono convinto che la maggioranza dei musulmani che si iscriveranno saranno benintenzionati, i candidati saranno poi espressione di questa maggioranza e noi pensiamo di poter arrivare entro quest'anno all'elezione della Costituente, la Costituente avrà un numero variabile in base agli iscritti, naturalmente l'obiettivo è quello dei 100 membri della Costituente, che però vuol dire che se avremo 100 candidati tutti, candidati eletti vuol dire che abbiamo almeno 10 mila iscritti, ecco. È fattibile, è fattibile, non è semplice, ma è fattibile. Dunque in qualche modo a fine anno ci sarà una nuova, come dire, una nuova associazione… No, poi la Costituente deciderà eventualmente, questo sarà poi il suo dominio evidentemente, anche se noi prepareremo le linee generali, prepareremo uno statuto per la Costituente, che la Costituente stessa potrà cambiare anche con maggioranze qualificate, evidentemente, chiederà l'intesa o parteciperà al percorso di intesa insieme con le altre organizzazioni, nei confronti del quale noi non abbiamo nessuna opostile, evidentemente, e poi chiederà riconoscimento come ente di culto, evidentemente, e si porrà nei confronti della società civile, anche non soltanto delle istituzioni, ma della società civile come interlocutore reale. Noi abbiamo oggi, per esempio nei confronti della stampa, abbiamo personaggi assolutamente improponibili che vengono regolarmente intervistati e ci fanno soffrire, oggettivamente, perché per mancanza di capacità o per mancanza di equilibri, quando ci sarà un organismo come la Costituente, evidentemente avrà anche il suo ufficio stampa che potrà appunto dialogare con quelli della stampa che vorranno avere una voce autentica e sicuramente riconosciuta. E autorevole. Inshallah.